Un anno tutto dedicato soprattutto al sociale nel tentativo anche di colmare tra virgolette i vuoti istituzionali in questo momento particolare di crisi economica. La Fondazione Carisal di Salerno mette a segno diversi punti importanti. È stato un anno particolarmente dedicato alla progettualità, quindi un anno strategico per la Fondazione Carisal in cui si è dato vita ad una serie di iniziative e di progetti che partiranno anche nel 2015 e che serviranno particolarmente i cittadini. Il tessuto sociale che spesso non viene tenuto nella giusta considerazione. Numerosi progetti messi in campo, dicevamo, a partire dal social lab ma soprattutto quello che partirà nell'area nord della provincia di Salerno dedicato in particolare alle donne, alle lavoratrici madri con l'istituzione anche di un asilo nido dove poter assistere i bambini delle donne che lavorano anche in orari pomeridiani. Insomma un'assistenza a 360 gradi come ha sottolineato il presidente Alfonso Cantarella. È Social in Lab, un progetto tutto che guarda l'imprenditoria sociale nel quale noi siamo stati bravi a coglierne sia il momento ma anche a studiarne, analizzarle attraverso questo grande gruppo di persone che continuano anche loro a crederci. Un'opera di affiancamento che passa però a una collaborazione chiara, trasparente e leale. Questo è importante che ha bisogno di una comunità. Noi non dobbiamo soltanto puntare sulle risorse finanziarie, noi dobbiamo dare centralità esclusivamente alle risorse umane, alla persona, alla sua capacità di poterla coinvolgere nelle attività. E quindi non deve esserci più un approccio assistenziale nella ricerca finanziaria ma deve esserci un approccio imprenditoriale fatto comunque di rischi e fatto anche però di un profitto che nell'ambito cooperativistico dovrebbe puntare ad un minimo profitto perché ci deve comunque essere ma che nello stesso tempo si abbia anche un profitto sociale, quindi il beneficio sociale, quindi l'impatto che questo profitto riesce a realizzarsi nella propria comunità. Lei ha chiuso con un messaggio, dice guardiamo con ottimismo al futuro, perché? Perché l'ottimismo ci aiuta a darci quell'adrenalina, a darci quell'adrenalina che ci serve utile alla nostra lucidità mentale. Una lucidità mentale che deve passare attraverso la collaborazione con le persone e questa collaborazione però passa attraverso un messaggio che noi dobbiamo dare di unitarietà del territorio. È importante ed è fondamentale che un territorio si presenti forte, la sua forza, la sua energia la trova sull'unitarietà, mettendo da parte gli interessi individuali ma guardando il bene comune. Solo così e solo con queste condizioni noi riusciamo a far sì che il nostro territorio diventi attrattivo per fondi di investimento e per persone che eventualmente potrebbero scegliere anche la nostra provincia di Salerno per poter passare non soltanto l'estate ma anche una vita intera. Grazie.